ma parliamo della perfezione dell'eyeliner io boh 4 settimane al mese per 10,40 cara Aurora li spiego io perché non sono 10 mesi ma 9 deve considerare che un mese non sono 4 settimane perché 4 settimane sarebbero 28 giorni l'unico mese dell'anno che è di 4 settimane è febbraio tutti gli altri infatti vanno da 30 a 31 quindi sono circa 4 settimane e mezzo questo vuol dire che 9 settimane sono 2 mesi e quindi se si fa i conti si renderà conto che 9 mesi sono 40 settimane si può partorire a 41 settimane più 3 giorni quindi 9 mesi e un po' ma non 10 e quindi Grazie a tutti Grazie a tutti